Pucino, cosa è cambiata? Più la testa o è questo nuovo modulo di gioco che vi ha rigenerati? Sicuramente la testa fa la sua parte. Ci serviva la vittoria di Brescia che secondo ci ha dato comunque quelle certezze che ci mancavano. Ci è servito a darci quella convinzione e comunque siamo forti perché l'abbiamo dimostrato già dalla prima giornata. Anche se i risultati ci andavano un po' contro. Ci serviva questo. Infatti domenica in casa con la capolista l'abbiamo dimostrato che ci mancava quella sicurezza, quella determinazione di andare a prendere il risultato e di portarlo a termine fino alla fine. Attacchiamoci anche alla cabala che dice che non c'è due senza tre. In vista di Modena potrebbe servire? Sì, noi non ci attacchiamo a questa capa perché non c'è due senza tre ma noi vogliamo continuare anche la quarta, la quinta. Vogliamo ottenere risultati utili fino alla fine. Sicuramente il giro di andata perché comunque chiudere una posizione di classifica migliore rispetto a quella che siamo ora è molto importante. E poi affrontare il giro di ritorno con un'altra testa sicuramente. È capitato poche volte che potevate guardare un avversario dall'alto in basso. Che effetto fa? Ma fa l'effetto sicuramente non è bello perché comunque anche noi guardandoci giorno per giorno durante gli allenamenti siamo già dall'inizio campionato. Eramo convinti che non era quello il posto della classifica che meritavamo. Quindi comunque ci faceva tanta rabbia. La sferta di Modena serve per cosa? Ma serve innanzitutto per continuare questa striscia positiva e affrontando le partite come le ultime due ma come ci è capitato anche nelle altre partite. Ecco forse ora abbiamo messo dentro equilibrio, lo portiamo fino alla fine per tutti i 90 minuti. Abbiamo aggiunto cattiveria agonistica che forse era anche un po' quello che ci mancava. Quindi in Emilia un Pescara come? Magari come quello che ha affrontato il Frosinone? Ma sì, perché no anche meglio. Sicuramente andiamo lì per portare a casa il risultato e non perché abbiamo vinto in casa 3-0 contro il Frosinone andiamo lì adagiate o con meno cattiveria, anzi. Grazie. Grazie.